Buonasera al pubblico di Lottaporta, buonasera a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Sta agitata sto periodo, mamma mia, con gli artigli pronti. Assolutamente, guardi, ho le unghie cortissime, non ho artigli, non sono agitate. Che sta succedendo nel centrodestra? Nel centrodestra sta accadendo quello che ho già detto, insomma, che ci sono sicuramente molte cose che vanno chiarite. Da quanto tempo non si sente con Salvini? Dalla sera dell'elezione del Presidente della Repubblica? Da prima dell'elezione di Mattarella. In ogni caso, io... Sono venti giorni, eh? Secondo me nei dieci anni precedenti erano mai passati venti giorni? Sì, siamo passati. Qual era l'ultima volta che avete litigato? Beh, l'ultima volta nella quale non ci siamo, diciamo, sentiti per un po' e quando, sempre dalle agenzie, ho scoperto che sostenevano il governo Draghi. Anche lì è passato un po' di tempo, prima che ci risentissimo. Però, guardi, il tema, in realtà, chiaramente è normale che voi chiediate a me ogni giorno che cosa intende fare i Fratelli d'Italia. Il punto è che a me quello che intende fare i Fratelli d'Italia è molto chiaro. Noi intendiamo rappresentare con orgoglio la nostra metà campo. Quindi, in realtà, la domanda su quale sarà il futuro del centrodestra, che cosa farà il centrodestra, non va affatto a noi. Io credo che siano gli altri a dover dire, se rispetto ad alcune scelte che hanno fatto in questo periodo, che sono scelte di alleanze, che sono scelte sui temi, anche no. L'ultima oggi ne parleremo, insomma, la direttiva Bolken sta in cambi di posizione rispetto alle battaglie comuni che abbiamo portato avanti. Se su questo si vuole cambiare passo di qui alle prossime elezioni politiche, insomma, perché le alleanze non si fanno su, come posso dire, sui titoli, si fanno sui contenuti. Poi parleremo in dettaglio dei balneari, ma uno non può mettere in crisi un'alleanza sui balneari, che peraltro... No, ma io sto facendo l'ultimo esempio, ma guardi, ne posso fare diversi, no? Ne posso fare oggettivamente diversi. Il punto è sempre lo stesso, scegli il centrodestra, alla fine, che non vuol dire il centrodestra, scegli di essere amico di Giorgia Meloni, per carità, vuol dire scegli di rappresentare con orgoglio quelle idee, quella visione, che gli italiani di centrodestra si aspettano che noi rappresentiamo o no. Questa adesso diventa, secondo me, la domanda fondamentale. Che Fratelli d'Italia abbia fatto questa scelta è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Noi una cosa diciamo, una cosa facciamo, e le nostre posizioni, che sono spesso condivise con il resto del centrodestra, sono posizioni che portiamo avanti fino alla fine. Per carità, gli altri hanno fatto altre scelte che io non ho neanche sindacato fino al tema di Draghi, più di tanto, lei ricorderà, abbiamo fatto diverse interviste, perché capisco la difficoltà di chi dice, no, sto fuori e magari conto di meno o cerco di stare dentro e modificare le cose. Poi però all'atto pratico, Vespa, bisogna anche tirare il bilancio. Ma come il Partito Democratico, dice Salvini, non si può stare con piede dentro o piede fuori. Ma guardi, il Partito Democratico pretende che, diciamo di avere, questo l'ho già detto altre volte, il Partito Democratico fa una cosa curiosa, perché pretende di avere i voti di centrodestra per fare le cose che vuole fare lui. Ma scusi, ma esattamente questa unità nazionale nel governo Draghi, dove sta? Allora, sull'immigrazione si fa quello che vuole alla sinistra, sul Green Pass, i vaccini, si fa quello che vuole alla sinistra, sulla direttiva Bolkens si fa quello che vuole alla sinistra, sul quota 100 si è fatto quello che vuole alla sinistra, sull'estimi catastali si è fatto quello che vuole alla sinistra, su mille temi. No, gli estimi ci sono, stanno facendo la revisione degli estimi catastali, la stanno facendo, tra l'altro era inserita nel PNRR, per cui anche lì, se il governo avesse mandato in aula un provvedimento in tempo per farlo leggere ai parlamentari, prima che impegnassero 250 miliardi di euro di soldi degli italiani, sarebbe stato carino e utile. Però, al di là di tutto, uno c'è tutto tirato il bilancio, qual è il problema? Il problema non è ovviamente una indisponibilità da parte di Lega e Forza Italia a votare i provvedimenti nei quali credono, il problema è che come io avevo sommessamente segnalato, in questo Parlamento la maggioranza ce l'ha la sinistra e se Draghi presta il fianco, come mi pare che stia facendo in molte situazioni, è evidente... Si è rotto il suo fidanzamento con Draghi? Non sono mai stata fidanzata con Draghi, ho un sereno rapporto di opposizione al governo Draghi, come lei sa, poi sicuramente con Draghi parlo, cerco di fare delle mie proposte, cerco di aiutare l'Italia, non altro che quello che faccio sempre e che fa sempre Fratelli d'Italia, però di un certo punto devi tirare le somme e decidere quale debba essere la tua priorità, il punto qual è? Noi dobbiamo sicuramente guardare avanti e credo sia quello che, spero sia quello che vogliono fare tutti, ok? Però non possiamo guardare avanti senza, come posso dire, imparare da quello che abbiamo dietro, no? Quindi io e Fratelli d'Italia che siamo saldamente stati sempre nella coalizione centrodestra, che abbiamo creduto più di tutti del centrodestra banalmente perché, come anche ho detto varie volte, non abbiamo un piano B nelle alleanze, per noi l'unica opzione è il governo con il centrodestra, che sia questo centrodestra, che sia un centrodestra rinnovato, poi lo si vedrà, però adesso... Che significa centrodestra rinnovato? Beh, significa che io spero che si possa diciamo ricostruire, altrimenti bisognerà ragionare di come si possa rappresentare questa metà campo. Rinnovato, centrodestra che io sappia è fatto da lei, da Salvini, da Berlusconi e da altri partiti minori di centro. Lo spero anch'io, ma questo, ripeto, non va chiesto a me, perché io lì sto, va chiesto agli altri, va chiesto agli altri se ci vogliono ancora stare e a quali condizioni. Per cui io oggi chiedo solo chiarezza, sono disponibile ovviamente a parlare come sempre con tutti, però il tema non è più... Vabbè, dai, facciamo finta che non sia accaduto nulla, andiamo avanti. Adesso sistemiamo le bollette e poi ci riparliamo. Eh, sì. Domani vediamo che fa il governo. Sì, ma quando ci riparliamo, va bene, io sono sempre disponibile, però quando ci riparliamo ci dobbiamo parlare di cose concrete. Ma la prima cosa concreta è la chiederebbe a Salvini? Oh, ma te, beh, qualcosa? Garanzie sulla legge elettorale, patto antinciucio, la certezza che il centrodestra voglia fare il centrodestra, la certezza che il centrodestra abbia delle regole di ingaggio chiare, la certezza che tutti rispettino gli stessi patti, la certezza di avere una lealtà che noi abbiamo sempre mantenuto e dimostrato. Cose semplici che servono per fare un'alleanza, però. Allora, stanotte parliamo di piccole cose, però, alle quali teneva molto, per esempio quello del contante, no? Portarli, stanotte il governo è andato sotto quattro volte e con delle maggioranze, adesso ce le ricorda Elisa Calessi, le maggioranze stravaganti, insomma, però il centrodestra sui soldi, da 1.000 a 2.000 euro, siete stati uniti. Vediamo un po'. Elisa Calessi e Carlo Antonio Cavazzocca. Ci sono notti da dimenticare. Per il governo lo è stata, senza dubbio, quella di ieri alla Camera dei Deputati. L'esecutivo è stato battuto su ben quattro emendamenti al decreto mille proroghe in commissione bilancio. Uno sul tetto ai contanti, che torna a essere di 2.000 euro fino al 2023. Un altro sull'ILVA, contrariamente da quanto voleva il governo, i fondi sequestrate ai RIVA saranno destinati alle bonifiche. Un terzo emendamento, su cui l'esecutivo era contrario, ma anche a cui gli è andata male, è il rinvio di altri tre anni del divieto di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti d'organo. Infine, è stata bocciata una proposta di Forza Italia, ma sostenuta dal governo, che rinviava di un anno l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze degli insegnanti di scuole primarie secondarie. Su ciascuna di queste modifiche sono andate in scena le alleanze più diverse. La norma sui contanti è passata grazie ai voti dell'intero centrodestra, che ha appoggiato una proposta di Fratelli d'Italia, partito che però è all'opposizione. Sulla ex-ILVA ha vinto una crociata formata da tutti tranne la Lega. Il via libera alla sperimentazione sugli animali è stato approvato dall'inedito asse PD-Lega 5 Stelle. L'emendamento sulla scuola è stato difeso solo da Governo, Lega e Forza Italia. La notataccia del Governo è stata positiva invece per il centrodestra, che dopo le crepe sull'elezione del Presidente della Repubblica si è ricompattato sul tetto ai contanti, unità che potrebbe ripresentarsi su un'altra battaglia storica del centrodestra, quella sulla separazione delle carriere dei magistrati. Tra qualche mese si terrà lo storico referendum e sarà a ridosso di una importante tornata di elezioni amministrative, su cui invece il centrodestra, quanto a candidature, è ancora in alto mare. Per il resto le montagne russe sui voti al mille proroghe raccontano di una maggioranza dove ormai ciascuno si muove per conto proprio e dove le alleanze si fanno e si disfano volta per volta, a prescindere dal Governo. Toccherà al capoclasse, Draghi, riportare l'ordine, ma non sarà facile. Buonasera, Antonio Polito, il giornalista di Corriera Sera e Alessandra Di Osleri, capo di Euromiglia Research, che porta dei sondaggi su tante cose. Come la vedi questa interruzione finora, 20 giorni, non si parla 20 giorni, sono tanti. Però era triste mentre lo diceva, lo vedo che soffre di questa cosa. Guardi, io soffro, io... Lui praticamente ha interrotto le comunicazioni sbagliando di piano, doveva venire da lei all'ultimo piano e si è fermata a quinto, ha detto voto a Mattarella e è finita lì. Guardi, non è questione di soffrire, è questione di prospettiva, no. Io chiaramente la mia speranza è che questa nazione possa avere un governo diverso. Io non capisco questa speranza, cioè lei ha elencato una serie di fatti importanti su cui la Lega e Forza Italia hanno ormai opinioni molto diverse da quelle che sostenevano con lei un tempo, no? Come si ricostituisce? Se lei dice che le alleanze non si fanno sulla politica ma sui programmi, sui contenuti. Avete ormai Forza Italia che è un partito europeista, moderato, perfettamente integrato nella maggioranza. La Lega, alla quale perfino Franceschini dice che sta facendo un percorso moderato, si sta avvicinando all'area moderata. Dopodiché, come è possibile ricostruire? Voi vi siete a un tavolo dopo 20 giorni, tra qualche tempo, che non vi siete mai visti e decidete insieme chi sono i candidati nei singoli collegi? A me sembra abbastanza impossibile ricostruirlo. Infatti io ho detto che secondo me non si fa finta di niente, nel senso no, ci si rivede. Parliamo dei candidati nei collegi? No, anche perché i candidati nei collegi ci vuole... Beh, i candidati per le elezioni amministrative. Per le elezioni amministrative, ma sul territorio le cose sono abbastanza più semplici, perché sul territorio mediamente il centrodestra è compatto, fa le sue politiche, difende le idee nelle quali dichiara di credere e quindi il tema è meno completo. Quindi non ci sarà un'influenza negativa di questa freddezza al centro sulle elezioni Ma questo lo valuteremo, ma finché si fanno proposte di centrodestra credibili, io l'ho sempre sostenute, ripeto, non dipende da me. Poi se mi si propone di votare una persona distonica da quella che è la mia visione, io come non ho votato Draghi e Mattarella non voto neanche l'amministrative, ma questo è un problema che non si è. Lei, il Cavaliere e tutti e tre sul palco elettorale, lei ce li vede adesso? Ma non è detto, non lo so, adesso io questo non lo so, ripeto, io spero di vederceli, ok? Però non sono disponibile a fare finta di niente, a continuare così, ecco, come possiamo metterla, a continuare così. Io chiedo che ci sia una volontà dichiarata e dimostrata di far parte del campo del centrodestra. Polito diceva che la Lega e Forza Italia ormai hanno cambiato posizione, guardi che questo secondo me non è vero. La Lega e Forza Italia sono all'interno di una coalizione di governo nella quale sono, per numeri che ci sono e per scelte che loro fanno, costretti a votare cose che spesso non condividono. Questa è come vedo io la storia, ok? E perché allora? Perché sono costretti? Da che cosa? Sono costretti perché hanno dato la loro fiducia al governo Draghi e cercano di fare del loro meglio, magari per modificare dei provvedimenti, spesso non riuscendoci. Ma si sa cosa fare per Letta, anche Letta, non è che poi ogni tanto sta sempre a strillare. Guardi, le ho già fatto diversi esempi, mi pare che la sinistra porti a casa molti più risultati. Ma sempre da Draghi a lamentarsi, ha anche confermato il Presidente della Repubblica che aveva messo sette anni fa, per cui non so cos'altro possa pretendere Letta, le ultime elezioni politiche hanno preso il 18% e comandano, per cui mi pare che gli vada meglio, ok? Ma anche qui io ho cercato di dare una mano, quando è stato fatto, se è deciso, loro hanno deciso di sostenere il governo Draghi, pur non essendo d'accordo e rimanendo all'opposizione, lei ricorderà, ricorderete, che chiesi un intergruppo parlamentare del centrodestra, cioè dissi, come si è dimostrato ieri sul tetto al contante, guardate, io posso comunque, proprio perché voglio difendere il centrodestra, rafforzare la posizione anche di un centrodestra che sta al governo e che tenderà a subire i numeri che hanno gli altri, perché io non ho il vincolo di coalizione e di governo che avete voi, quindi sono disponibile a lavorare insieme. Tetto al contante, ieri si è dimostrato, ci sono dei casi nei quali il centrodestra, perché quella è una posizione fratelli d'Italia, è una battaglia che porta avanti da anni, ma è una posizione comune del centrodestra, quella sull'abolizione del tetto al contante, abbiamo portato l'emendamento, l'hanno votato, è passato? Ci sono delle cose che si possono fare insieme, questo l'ho proposto io, non l'hanno proposto gli altri che hanno invece interpretato l'opposizione quasi come, diciamo o no, un problema, ecco, quando quell'opposizione poteva essere utilizzata per rafforzare le nostre idee, questa è la domanda, alla fine scegli il centrodestra o scegli il governo? E' su questo che secondo me... Allora, vediamo un momento nel sondaggio di Alessandro Di Stato. Perché io penso che oggi scegliere il centrodestra, voglia dire anche scegliere il governo domani, però oggi scegli il centrodestra o scegli questo governo? Cartelli 5, 6 e 7. È impossibile da sciogliere. Allora, vediamo il cartello 5. Ma non sono io che lo devo sciogliere. No, no, certo. Alle prossime elezioni il centrodestra si presenterà unito, 44% sì, quasi il 32% no, senza opinione un quarto. Chi sono? Beh, intanto c'è la speranza degli elettori di centrodestra, perché abbiamo quasi il 60% di Forza Italia, più del 60% degli elettori di Salvini e il 70% degli elettori di Fratelli d'Italia. Vabbè, qui sono il percentuale... Quindi loro sì, mentre ovviamente il PD dice 43,2 sì... Quindi questo, scusami, è un campione su tutti. Se tu l'avessi fatto solo sugli elettori di centrodestra saremmo sopra il 65-65%. Saremmo intorno al 63% come media. 65-66%. Perché è un desiderio. Ho ragione. Ho ragione. Ho ragione, si rimettono insieme. È un perimetro conosciuto. Io non l'ho detto, ho detto che sicuramente ho ragione nella misura in cui i nostri elettori si aspettano di avere una proposta di centrodestra e non una proposta che rincorra al centro-sinistra. Allora, cartello successivo, il centro-sinistra. Centro-sinistra e 5 Stelle si presenteranno uniti alle prossime elezioni. Sì, 40%, no, 36%. Qui che succede? E qui invece gli elettori che stanno, gli elettorati dei due partiti al governo, Forza Italia e Salvini, dichiarano no. Mentre Meloni, un elettore su due di Fratelli d'Italia, dice sì. Il PD quanti del PD? Il PD il 52% e il Movimento 5 Stelle si spacca a metà. Cioè il 40% dice sì e il 36,5% dice sì. Beh, questo però non è un problema. È perché loro hanno una composizione mistia, per cui una parte non vuole, anzi rimangono resilienti sulla loro posizione e vorrebbero andare da soli. Allora, e Giuseppe Conte che fine fa? Beh, per il dato nazionale... L'importante è che il 73,4% dei suoi elettori pensa che sarà lui il leader. Quindi il restante pensa di no. Che è la parte, diciamo, anche della divisione che noi abbiamo letto su tutti i giornali. Questo 73% grosso modo equivale a quelli che sono fedeli a Conte anche all'interno, forse, del gruppo parlamentare. Io mi aspettavo un po' meno. Invece sono tre quarti del gruppo parlamentare. Diciamo che la popolazione... Sì, perché Conte ha una fiducia molto alta. Tra l'indice di fiducia e di approvazione per la propria posizione, che non equivale al voto, i primi tre sono nell'ordine Conte, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E in queste posizioni si giocano molti dei loro dati. Conte ha una bella immagine e mentre è un pochino più risicata dentro i suoi uomini che lo rappresentano. Balleari. Allora, in Italia ci sono più di 100.000 concessioni, ma tre quarti di queste concessioni stanno in alberghi, villaggi, campeggi. C'è il rischio di questa famosa sanzione europea perché c'è la vecchia direttiva Bolsan che dice ma perché non li mettete a gara? E lì poi sarà un sondaggio sorprendente. Gianni Trovati, il Sole 24 Ore. Per inquadrare il problema delle spiagge, cruciale in Italia che ha 4.000 km di spiagge, bastano pochi numeri. Le concessioni sono 27.000 e pagano in tutto 103 milioni di euro all'anno. Una somma che vale circa il 5% del fatturato del settore, stimato con tutte le difficoltà del caso, con un'evasione che in riva al mare è parecchio diffusa. Nasce per difendere questa situazione l'opposizione dei balneari a qualsiasi ipotesi di riforma delle concessioni. Un'opposizione che in questi anni ha trovato molto ascolto nei partiti, nel centro-destra ma non solo, fino alla procedura di infrazione che fa rischiare all'Italia di pagare sanzioni salate, oltre a sopportare i costi dei mancati incassi. Le nuove regole appena approvate dal Consiglio dei Ministri provano a fermare la procedura, ma di fatto rinviano la palla in avanti di sei mesi, il tempo che il governo si è dato per attuare una delega ora da approvare in Parlamento, nel disegno di legge sulla concorrenza. I principi sono chiari e dopo aver salvato le concessioni attuali fino a tutto il 2023, puntano a un obbligo di gara temperato da tutele per gli operatori attuali e clausole sociali per i loro dipendenti. I bandi dovranno tenere conto degli investimenti già effettuati e dei miglioramenti alla redditività portati dal lavoro degli stabilimenti, ma un conto sono i principi e un altro le regole di dettaglio, che dovranno evitare di costruire gare finte e già vinte in partenza dai concessionari di oggi, per provare ad aumentare gli incassi e soprattutto ad evitare le sanzioni. Allora, stasera voi avete approvato alla Camera l'oggi del giorno che voi, perché l'ha votato con la maggioranza, insomma 366 voti a favore e 42 contrari, che non sono i vostri, mi pare. Una complicatissima mozione, come tutte le mozioni, bisogna mettere in accordo tutti un po' piena di curve. Insomma, alla fine dice una maggiore concorrenzialità, che è quella che vuole Europa, tenendo in adeguata considerazione la peculiarità del settore e il patrimonio ambientale. La peculiarità del settore, cioè diciamo che in Italia è una cosa un po' più complicata. Allora, intanto bisogna fare un po' di chiarezza anche rispetto al servizio che ho sentito. Punto primo, noi abbiamo presentato una nostra mozione oggi in Parlamento, che riproponeva la posizione che abbiamo da sempre, cioè secondo noi i balneari italiani non rientrano nella direttiva Bolkenstein. Per diverse ragioni, in primo luogo perché, come lei sa meglio di me, la direttiva Bolkenstein è una direttiva sui servizi, mentre i beni, diciamo le concessioni balneari, sono concessioni su un bene. In secondo luogo perché la direttiva Bolkenstein prevede che, diciamo, la concorrenza si debba imporre, tra virgolette, da parte della Commissione europea quando c'è scarsità del bene. Ma noi viviamo in una nazione che, pieva a Dio, di cose ce ne ha tante e ne ha moltissime che non sono ancora state date in concessione. In terzo luogo perché, mentre si dice che l'Europa sia pronta a fare una multa salatissima l'Italia se non mette all'asta queste concessioni, poi parliamo di cosa comporta l'asta, Spagna e Portogallo prorogano le loro concessioni di qualche decennio. E lei sa meglio di me che all'articolo 11 della Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia accede a cessioni di sovranità in condizioni di parità con gli altri stati. Se quella condizione di parità non viene garantita, allora non deve essere garantita. Cioè, allora o si mettono all'asta tutte o non si mette all'asta nessuna. Dopodiché mi corre l'obbligo di correggere, diciamo così, quello che ho sentito nel servizio perché non è vero che la battaglia di Fratelli d'Italia è una battaglia per impedire che si metta mano ai privilegi di... Qui, intanto, se i privilegi di alcuni si vogliono combattere, guardi, se c'è una che combatte i privilegi, come tutti sanno... Però lei dà atto che gli stabilimenti balneari pagano delle concessioni spesso emisorie rispetto agli incassi. Però scusi, mi scusi, io non lo so questo, però se i concessionari balneari pagano dei canoni inadeguati il governo prende, convoca l'agenzia del demanio, convoca la categoria, convoca le regioni e alza i canoni. Non si può utilizzare questo tema su una cosa che non si è fatta per dire Signori belli, da oggi tutti gli investimenti che avete fatto, tutti i debiti che avete contratto per prendere quello che lo Stato vi ha dato in concessione e trasformarlo in una cosa bella va all'asta, perché sa che cosa accadrà con le aste? Non accade, come ci raccontano, che i giovani italiani potranno finalmente ambire ad avere uno stabilimento a Riccione. No, finiranno in mano alle multinazionali straniere, per cui noi stiamo prendendo le nostre coste, un pezzo fondamentale del nostro turismo, una infrastruttura che è anche strategica, perché comunque no, ci sono i porti, è un tema anche delicato, e li stiamo svendendo perché non siamo stati in grado di alzare i canoni di concessione, è una follia. Ma io devo dire la verità, io sono molto favorito alle liberalizzazioni, alla concorrenza, perché fanno entrare soggetti nuovi, noi abbiamo tanti giovani che non trovano lavoro che i giovani non vincano l'asta. E questo voglio dire, non sono favorevole per tutte le cose, dai taxi, su questo settore specifico effettivamente qualche ragione c'è nel proteggere, anche perché poi è un rapporto complesso, qui è un business, ma è anche in qualche modo la gestione di un bene ambientale, per cui tu devi anche avere delle garanzie che non si mangiano la spiaggia, non la sbancano con le ruspe, non ci mettono il cemento sopra e così via. E poi effettivamente ci sono tante piccole aziende che hanno fatto investimenti, diciamo così, pluriennali. Però io credo che sia possibile trovare una formula per garantire più concorrenza e protezione allo stesso tempo di chi ci ha messo dei soldi e degli investimenti. Da questo punto di vista ne abbiamo fatte molte in questi anni. Intanto, ripeto, noi potevamo tranquillamente... E poi scusi, i canoni, cioè una rivalutazione dei canoni, perché questo veramente grida vendetta al cielo, insomma, in un paese... Ma guardi, non ho alcun problema su questo, ripeto, ma perché noi buttiamo sempre il bambino con l'acqua sporca. Cioè passiamo da canoni che consideriamo irrisori a ti esproprio. Quello è un esproprio, dottor Polito, perché ripeto, atteso che non parliamo di aziende, perché vengono raccontati come dei grandi privilegiati... Il bene è nostro, non è loro. Sì, vabbè, però l'azienda ce l'hanno costruita loro. E ce l'hanno costruita fidandosi dello Stato italiano, delle regole dello Stato italiano. È chiaro? L'hanno fatto seguendo tutte le regole. Se lo Stato italiano riteneva che quelle regole non fossero adeguate, poteva cambiare le regole. Ma non si passa dal non faccio finta di non sapere niente al ti svendo alle multinazionali straniere. Allora, Giancarla Rubirelli e Giulio Menenti sono andati in Emilia-Romagna. Tra l'altro il presidente della regione Emilia-Romagna è molto protettivo, anche perché sa benissimo che cosa succede lì se salta il banco. Un momento che dicono i balneari nell'Emilia-Romagna. Fanno un vero danno, un vero danno. Nel mio caso, vent'anni fa, avevo un contratto con lo Stato italiano, in cui pagavo il mio camere nel Magnale. In questo momento, questo contratto, senza motivazioni, senza colpe da parte mia, viene interrotto. Vede, oggi si parla di mettere in evidenza pubblica tratti di spiaggia. Ma così non è. Oggi andrebbe in evidenza pubblica il sistema turistico balneare italiano. Da quanti anni lei è qua? Io guardi, sono qua da otto anni, mi ho presto a fare la nonna stagione. Quindi, se devo essere sincero, devo ancora finire di ammortizzarlo. Ho ancora il mutuo per due anni, quindi... E poi ne ho già fatto un altro di mutuo per altre cose. Se io avessi acquistato con i soldi o investito in una proprietà privata, mi ritroverei questo bene di mia proprietà e tutti gli investimenti fatti mi avrebbero migliorato la mia attività che in questo momento invece li cedo a un altro. Tutti i miglioramenti che io ho fatto finora vengono ceduti. Nel momento del bando, i miei investimenti valgono zero lire. Quello che rischiamo è appunto che non sia affrontato questo tema in un modo equilibrato. C'è troppa fretta, si parla troppo di gare. Pensare che nel 2024 si debba gestire tutta questa cosa che è molto complicata mette in difficoltà innanzitutto gli enti locali, i comuni e le regioni. E quindi è necessario farli in tempi e modi diversi. Due anni fa era venuto fuori il decreto di Conte, la legge Conte. Ci aveva dato la proroga fino al 2033. Molti di noi hanno cominciato a investire, a sistemare, a fare. Adesso, fra due anni, ci troviamo che con tutto quello che abbiamo investito ci mandano praticamente a casa. Non vorrei che con questi bandi si agevolasse solo chi ha dei quattrini in tasca e quattrini a volte di prevenenza non chiara. Questo deve essere sicuramente una delle basi. Io penso che se il capo del governo, che lo ritengo un buon padre di famiglia, dovrebbe pensare prima di mandare a casa 30.000 aziende, anzi, sono 30.000 famiglie più tutto l'indotto che c'è dietro. Allora, la gente lamenda il caro ombrellone. E si vede al sondaggio che ha fatto Alessandra Ghisleri. Le concessioni balneari vanno riviste e riassegnate tramite gare aperte? Guardate un momento. E la maggioranza? Sì, 67%, no, 14%. Ma questo è un classico caso. Intanto sono 30.000 stabilimenti e il voto è stato calcolato sugli italiani maggiorenni, che sono 50 milioni in proiezione. Quindi una minima parte. In più, è un fatto anche proprio di settore. Cioè, è ovvio che principalmente l'italiano è liberale, vorrebbe la competizione, ma in questo specifico caso sono poche le famiglie rispetto a quelli a cui abbiamo fatto giudicare, perché ovviamente quello che abbiamo visto nel filmato è la tutela di un patrimonio, di un'azienda, ma soprattutto la storia del nostro paese, perché ci sono spiagge che raccontano chi siamo e i turisti arrivano sulla spiaggia, sui nostri litorali, proprio per conoscerli. Posso dire una cosa velocemente su questo tema del canone di concessione? Caro Obrellone, allora, punto primo, se queste aziende vanno a questi stabilimenti vanno all'asta e al posto di un'azienda a conduzione familiare italiana se la prendono a multinazionale straniera non diminuiscono i prezzi. Se si sottopaga il lavoro, che è quello che accadrà, ok? Punto primo. Punto secondo, anche qui, basta che il governo prenda e fa una normuccia, io l'ho detto oggi in aula, ho fatto la dichiarazione di voto su questo tema, prendi, porti l'IVA a livello delle altre aziende turistiche e pretendi che in cambio tutto il risparmio vada sul taglio dei prezzi. A tutto c'è una soluzione, il problema è che non si vuole trovare una soluzione, perché queste aziende sono state sacrificate ed espropriate per interessi legati alla Commissione. Tg1, torniamo subito. Grazie a tutti. Tg1, torniamo subito. I morti sono ancora tanti, ma siamo intorno al 10% e c'è, come vediamo adesso dall'analisi settimanale di Gimbe, c'è veramente un calo notevole. Andiamo a guardare, di nuovi casi una settimana, meno il 32%, i tamponi sono diminuiti anche meno 28%, i ricoveri meno 15%, terapia intensiva quasi meno 19%, i decessi stanno scendendo anche questi meno 16%. però, guardiamo i nuovi vaccinati, i nuovi vaccinati si è fermata la storia, cioè l'idea di mettere il Green Pass oltre i 50 anni, se non non lavori, zero, come non ci fosse successo niente, perché rivediamo il cartello, over 50% praticamente c'è stato meno 44% e anche meno 41%, questo nella fascia 5-11 anni, che è una fascia 5-11, perché Giorgio Maluni, per esempio, come ha detto Salvini, ha deciso di non vaccinare la FIA. Perché il pediatra, vi ha detto, aspettate. Guardi, io francamente non voglio parlare più di questo tema, perché, diciamo, sono una madre che come tutte le altre ha diritto a, diciamo, esercitare le scelte sulla salute di sua figlia, mi ha fatto molto specie che quando io ho dichiarato che avrei fatto la stessa scelta, che a occhio sta facendo il 90% degli italiani, io sia stata linciata, con mia figlia, gettata sulle prime pagine di tutti i giornali, e, diciamo, mi fa ridere che si faccia campagna politica su una cosa del genere, nel senso che, sempre stando al dato statistico, Vespa, visto che meno del 10% degli italiani ha vaccinato i figli sotto gli 11 anni, a occhio ci sta pure qualche parlamentare nella maggioranza, giusto? Però questo si viene a guardare di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, a tutti gli altri curiosamente non viene chiesto. Allora, siccome io non voglio influenzare le scelte degli altri, la scelta che ho fatto io la conoscono tutti, dopodiché gli italiani fanno liberamente le loro scelte, io sono una madre come le altre, ho il diritto a fare le mie. Non sono stata convintata alla scienza, questo è il punto della materia. E anche qui mi fa specie sempre, quando si tratta di questi temi, che invece di aggredirti non si cerchi di spiegare. Perché, come ho detto mille volte, guardi, la materia è scienza. Ora, la base della scienza è che non è religione, è che sulla scienza tu mi dai delle evidenze, io se ho delle domande mi rispondi, e non mi insulti se faccio delle domande. Guardi, nel nostro, diciamo, civiltà occidentale, neanche Dio può farci fare qualcosa che è irragionevole. Se figuri, se me la può far fare... Allora, vediamo un momento. Ecco, no, allora, io chiedo risposte. Quando mi arrivano bene, altrimenti non mi convincono. Quando finirà l'emergenza Covid? Guardiamo un momento, qui è molto frastagliato. Siamo agli sgoccioli, pochi, 10% nemmeno. Con l'arrivo della stagione calda, 16%. Entro la fine dell'anno, 12%. Nel 2023, 21%. E poi, tra 5 anni, vabbè, qua andiamo nei catastrofisti, 7, 10 anni, 1%, mai. Dovremmo imparare a convirci, 17%, cioè, cerchiamo di capire, insomma, che significa poi, e non è che poi posteremo la mascherina per tutta la vita, insomma. È l'emergenza Covid, non il Covid. È l'emergenza Covid. Il Covid effettivamente, forse mai. Ma no, però, diventerà qualche cosa, come già è successo. Ma anche il morbillo non è, c'è da sempre. Ti voglio dire, quindi, non, non, non... La sua posizione, invece, qual è? Guardi, la mia posizione... No, sul 31 marzo. La mia posizione è che il 31 marzo non si può prorogare lo stato di emergenza e la mia posizione è che non bisogna aspettare fino al 31 marzo per abolire il Green Pass e il Super Green Pass, che sono misure, intanto, voglio dire, che obiettivamente ledono il diritto fondamentale, prima ancora che costituzionale, alla libertà e al lavoro, e che, ahimè, perché questo dicono i numeri, non hanno dato i risultati che ci si attendeva. Perché ci sono... Noi siamo in linea. Aumento dei contagi, aumento delle morti, aumento... Con l'andamento di quello che accade in tutto il resto d'Europa, ma nessuno in Europa ha detto che tu non puoi guadagnarti da vivere per dare da mangiare ai tuoi figli se non ti vaccini. Nessun altro ha avuto il coraggio di fare una cosa del genere, dottor Vespa. È servito? Non è servito. L'Italia ha tra i dati di contagio più alti, tra i dati di letalità più alti da Covid e tra i dati di mortalità più alti da Covid. Queste misure non servivano. Servivano a imporre una autorità da parte di un governo che non aveva un'autorevolezza per convincere le persone. E non l'avrebbe messo mai, Green Pass? No, io non l'avrei usato così come hanno fatto la Germania, la Spagna, che ha dati di vaccinazione più alti dei nostri, come ha fatto la Gran Bretagna, come ha fatto a un certo punto la Francia, che comunque non ha messo il Green Pass come lo mettevamo noi ed è dovuta tornare indietro e che probabilmente per arrivare a dati di vaccinazione come nel caso della Spagna più alti dei nostri avranno risposto alle domande, fatte campagne serie di comunicazione. Quelli che erano stati permissivi all'inizio poi ci hanno dovuto un pochino ripensare. Insomma, guardi, vada a guardare i dati della Gran Bretagna perché comunico ufficialmente che la Gran Bretagna che è stata, praticamente non ha più restrizioni, ha dati di contagio inferiori ai nostri. C'è qualcosa che non ha funzionato? Nella quarta ondata ci sono paesi che hanno fatto addirittura il lockdown che noi non abbiamo fatto proprio grazie al fatto che avendo un'alta percentuale di vaccinati ce la siamo gestita meglio la quarta ondata. Beh, guardi, anche qui ce la siamo gestita meglio. Ci sono nazioni che hanno fatto il lockdown e nazioni che non hanno fatto il lockdown e che non avevano il Green Pass. Per dirle che l'alternativa al Green Pass erano i lockdown. Non è vero. Ma sì che è così. Scusi, però non è così perché ci sono sali alcuni hanno fatto il lockdown alcuni hanno vaccinato la gente. Cioè, capiamoci, quello che io sto cercando di dire perché su questo si fa sempre confusione. Ma questo sarebbe bello se la gente si vaccinasse spontaneamente se non ci fossero anche dei leader politici che gli dicono che non dovrebbero. La gente si vaccina spontaneamente. Io penso che lei ricordi come me l'entusiasmo degli italiani quando sono usciti i vaccini. No. Che cosa è accaduto poi a un certo punto? Secondo me sono accadute due cose. Prima si è fatta una confusione assolutamente fuori misura e questa è una responsabilità che qualcuno si deve assumere. Scusi, ma il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, no, il grandissimo Mario Draghi, è arrivato quando ha istituito il Green Pass e ha detto una bugia in conferenza stampa. Ha detto le persone che accedono in un posto dove si accede solo con Green Pass hanno la garanzia di trovarsi da non contagiosi. Arriva dopo due mesi e corregge completamente il tiro. Vabbè, questo è... Oh, allora... Non lo sa nessuno questo. Però lei capisce... Questo succede a chi governa, sa? No, questo succede a chi governa se crede... Agli scienziati hanno detto questo. Questo succede a chi governa perché lo sapevano tutti che il vaccino non poteva garantire sul contagio. Si sapeva dall'inizio che non c'era certezza su questo tema. A parte che fa bene anche sul contagio. Il punto è... Beh, questo, diciamo, i dati... Beh, sì, dai. Il punto è un altro. Quelli contro i dosi... Il punto è che se ti non lo sai secondo me non puoi fare... Diciamo, non puoi dire una cosa che sai che non è vera per arrivare a un obiettivo diverso da quello che dichiari. Perché per me la politica... Guardi, questo è un fatto di punto di vista. Io credo che i cittadini italiani siano intelligenti e responsabili. Lo hanno dimostrato in tutta la pandemia. Puoi anche arrivare e dire guardate, non abbiamo delle certezze matematiche. Il vaccino ha avuto una sperimentazione velocissima per cui... Però vi diciamo quelle che sono le nostre evidenze. Fidatevi. Guardi che probabilmente sarebbe stato un approccio decisamente migliore di quello di fare prima casino e poi dire a chi diceva scusate schifoso, non puoi lavorare. che se da una parte è costretto a vaccinarsi dall'altra ha radicalizzato la posizione di persone che erano banalmente scettiche. Guardi un momento però questo il cartello 11 chi si è vaccinato è molto intollerante nei confronti di chi non si è vaccinato. Ma ti credo, ma hanno fatto una campagna... Guardi qua, il 62%... Ma noi abbiamo tutti i giorni una campagna che dice che chi non si vaccina è un terrorista che è un assassino che è un autore che spero, non è vero. Non puoi abituire ogni opinione degli italiani rilevata dalla dottoressa Ghisleri come effetto di una campagna mediatica. Beh, Polito... Gli italiani ragionano con loro testa. Lei però, che è una persona intellettualmente molto onesta penso che alla sera accenda la televisione come me. Sì, va bene, ma ci siamo vaccinati non perché ce l'ha detto Draghi ci siamo vaccinati perché aveva senso perché ci siamo protetti perché abbiamo tutti i 60 anni. Ci siamo vaccinati soprattutto perché eravamo costretti in assenza, diciamo, di provvedimenti o di serenità nella comunicazione che secondo me è convinto a vaccinarsi. Lei invidia la gestione di Boris Johnson che deve una parte della sua impopolarità alla gestione schizofrenica che ha fatto l'Inghilterra del Covid. Guardi, schizofrenica per oggi fa scusi, però oggi fa meno contagi di noi meno morti di noi. Chi sono questi che dicono? Sarà schizofrenica. Posso dire una cosa? I dati dell'Italia in proporzione sono simili a quelli del Brasile. Sono anni che io sento dire il caso del Brasile Bolsonaro, una vergogna. Ecco, le comunico e se vai a guardare i dati sono in proporzione. Ma noi non abbiamo le terapie intensive che esplodono. Questo è il punto. È chiaro che c'è il contagio. Ma questo non ce l'hanno neanche gli altri. Ma quello che stiamo tentando di fare è proprio quello di avere molto contagio e pochi malattini intubati. Io ho detto una cosa semplice sulla quale nessuno mi sa rispondere. Allora, fermo restando che il vaccino è utilissimo non sul contagio ma sull'aggravarsi della malattia. Ok? Perfetto. Il Green Pass per cui non stiamo parlando del vaccino stiamo parlando di come noi abbiamo portato la gente a base di come abbiamo gestito. Il Green Pass adesso, onestamente in Italia con norme che hanno abolito l'articolo 1 della Costituzione detto alla gente che può entrare in un supermercato senza Green Pass per comprare generi di prima necessità e chi me li guarda? Il cassiere? Abbiamo detto a ragazzini di 12 anni che non erano vaccinati quando sui giovani diciamo la comunità scientifica non è tutta d'accordo che non possono fare sport e mi pareva che su questo invece la comunità scientifica fosse d'accordo e noi abbiamo ragazzini di 12 anni che non possono fare sport. Certamente ci sono state contraddizioni. se tu sei malato di cancro e puoi prendere un traghetto per andarti a operare dalla Sardegna a Roma non puoi salire sul traghetto e sbarcano migliaia di immigrati clandestini non vaccinati eh no scusi ma è schizopreddico o non è schizopreddico punto primo punto secondo che risultati ha portato? Cioè altre nazioni che non hanno piegato così i diritti della gente che non hanno estremizzato così il dibattito che non hanno messo gli italiani l'uno contro l'altro ma che hanno solo spiegato hanno ottenuto risultati migliori dei no? Paga molto perché il dato di Fratelli d'Italia è totalmente spostato sul no quindi è una politica che viene condivisa fortemente che comunque guarda anche verso quei 3-6 milioni di persone che si sentono no vax si sentono radicalizzate alla loro posizione sono soprattutto attenzione giovani 18-24 anni e guardano la politica cercando un punto di riferimento e in Fratelli d'Italia Giorgia Meloni l'hanno trovato perché è proprio radicalizzato su di lei il voto però guardi voi mi conoscete abbastanza bene da sapere che io non prendo una posizione del genere è un risultato questa è una cosa che di noi si dice sempre che io trovo molto fastidiosa anzi anzi proprio perché qui noi stiamo discutendo della vita della gente della sua salute io non mi assumo la responsabilità di ripetere cose che ho sentito da un altro se non le vado a verificare è questo che gli altri non stanno facendo perché ripeto è scienza evidenze sulla base delle evidenze io decido quale sia la mia posizione sul Green Pass ho avuto ragione perché non serviva a dire agli italiani che non possono guadagnarsi da vivere per mangiare i loro figli gli altri lo hanno fatto senza questi limiti e quindi avevo ragione ma sarebbe stato molto più facile per me aggregarmi alla massa perché io vengo linciata ogni giorno per questo bollette ma se guardi si difende benissimo mi difendo benissimo guardi mi difendo benissimo grazie però non è che non venga attaccare io ho visto due giorni fa ad Agora un linciaggio linciaggio in diretta del senatore Lucio Malanti i fratelli d'Italia che tentava di sostenere questa posizione dove non c'era uno che gli sapesse rispondere nel merito della domanda che aveva fatto e gli hanno dato del malato di mente gli hanno dato del cretino gliel'hanno insultato io penso che non sia il modo giusto per affrontare questa questione poi magari diciamo io non sono il senatore Malan che suona l'arpa celtica è un ragazzo molto molto no in modo e io no sono più diciamo in cui magari però non è quello sarebbero volati i tavoli gli agorati allora domani il governo decide meno l'ha invitata da veloni più tranquilli sta però non si può dire di fronte a un senatore che sostiene una tesi come ha fatto la conduttrice allora dottor Bassetti quindi forse il bonus psichiatria immaginato dal governo non è così campato in aria insomma no dare dell'insano di mente a un senatore alla Repubblica esprime una posizione non mi pare degno allora domani il governo decide quanti soldi può stanziare per le bollette che tanti o pochi non è che cambieranno l'abbiamo visto ieri sera la vita onestamente purtroppo sarà un risparmio di un 10% sulle bollette che cambia cioè te la raddoppiano però più del 10% questo è frutta adesso non torniamo sulle scelte sbagliate l'assenza di nucleare l'assenza del blocco delle trivelle che adesso finalmente questo lo sappiamo allora andiamo un momento con Paola Ferrazzoli e Andrea Conte alla CGL i pensionati CGL in Toscana si sono riuniti per fare gli acquisti solidali io non so come si fanno gli acquisti solidali di energia elettrica vediamo un momento come fanno lì in Toscana con la forza dei numeri possiamo condizionare il mercato non solo subirlo più saremo e migliore sarà il prezzo gruppo acquisto solidale ci provano così i pensionati della CGL Toscana a combattere il caro bollette ci ha portato a far vedere due bollette due bollette della luce dello stesso periodo a distanza di un anno ha speso al posto di 34 o 114? 100 solo per la materia prima quindi lei ha accettato di provare a guadagnare qualcosa con questo acquisto solidale una strada da tentare per cercare di alleggerire queste cose abbiamo costruito un progetto con questo preciso obiettivo quello di risparmiare rispetto alle bollette che sono diventate insostenibili per chiunque ci ha telefonato dicendo che c'è una cosa che non regge più i pensionati vengono contattati firmano una delega a trattare per loro conto smettendo quindi di essere solo consumatori e diventando parte attiva per l'acquisto dell'energia spiegheremo quello che stiamo facendo sia la luce che i gas tutte e due questa qui allora è una delega che abbiamo predisposto per poter darci modo di richiedere un prezzo in maniera collettiva dobbiamo andare verso un vero e proprio gas che definisce un prezzo questo prezzo va definito nel momento in cui il mercato è il più basso possibile un'idea che vorrebbe arrivare a coinvolgere tutti i 226.000 iscritti al sindacato pensionati uno sforzo per cercare di dare una risposta concreta alle incessanti richieste di aiuto che arrivano per via dell'aumento di luce e gas al posto di 96 euro si paga 170 esatto di cosa si fa a meno per trovare questi soldi? magari si fa a meno di quelle che sono le cose non fondamentali ma che poi alla fine sono anche importanti nella vita non vorremmo limitarci a brontolare vorremmo provare a dare una piccola soluzione se ci riesce a un problema enorme allora stasera Draghi ha riunito la cabina di regia cioè significa i capi gruppo della maggioranza appunto per la questione bollette e li ha cazziati di dritto e di rovescio per il voto di stanotte perché sono mancati diceva andate o voi riuscite a garantire il voto in Parlamento o qua non andiamo avanti insomma perché dice qui per fare le cose realisti e non idealisti dice insomma quindi boh d'altra parte vabbè però penso anche adesso voglio spezzare una lancia in favore dei partiti della maggioranza di governo diciamo che in una repubblica parlamentare lo voglio fare perché diciamo che in una repubblica parlamentare il Parlamento non dovrebbe essere proprio vabbè però la maggioranza di governo non preso in considerazione se no che maggioranza scusi nel senso che se io arrivo in consiglio dei ministri come mi pare accada a volte e non so neanche cosa viene portato prendere o lasciare ma questa era una cosa che stava in commissione secondo me non funziona esattamente come non funziona in Parlamento ripeto noi abbiamo votato PNRR legge di bilancio Parlamento ha votato la legge di bilancio io ho scritto una lettera al presidente Mattarella su questo tema senza che all'opposizione fosse consentito di discutere in normali tempi con la legge di bilancio e non perché il governo fosse arrivato in tempo è tattica la legge di bilancio è stata mandata in Parlamento 20-30 giorni dopo i termini previsti per legge e così adesso non ci sono più i tempi ma lei sa che questa è una cattiva abitudine una vecchia cattiva abitudine ma però quanto tempo il mio appuntesitorio qui si è oggettivamente esagerato allora lei capisce che diciamo la condivisione è bilaterale se uno sa di che cosa deve parlare è più facile che possa votare con serenità perché non vota il referendum che vuole ridurre i termini alla custodia cautelare lei sa che la custodia cautelare spesso diventa un'ingiustizia forte assolutamente è una giustizia forte io sono diciamo partiamo da questo presupposto noi non ne votiamo due non perché non condividiamo il principio da cui muove il quesito referendario ma perché non condividiamo la soluzione che individua il quesito referendario la custodia cautelare è sicuramente un istituto di cui si è fatto un abuso incredibile però anche qui è come balneare di prima non è che si può buttare il bambino con l'acqua sporca e rivare la giustizia italiana di uno strumento che rimane comunque fondamentale perché è ovvio che se io non prevedo la possibilità di avere comunque un diciamo l'istituto della custodia cautelare mi ritrovo che per esempio il referendum la limita non la nulla però la limita ad alcune fatti specie per esempio sul rischio di reiterazione del reato che alla fine diciamo mi impediscono di tenere in galera i responsabili di reati dei maggiori allarmi sociali spacciatori di droga no aspetta otto anni poi te lo metto in galera stalking no aspetta otto anni poi te lo metto in galera la custodia cautelare no però nelle limitazioni che sono previste dal quesito referendario il risultato che noi otteniamo valutato dai nostri avvocati valutato dai nostri esperti è che si finisce per diciamo impedire che una serie di criminali che diciamo tra l'altro portano avanti alcuni tra i che sono responsabili dei crimini di maggiore allarme alla fine non si possono più arrestare allora lei capisce che questo diventa un problema cioè come facciamo noi a difendere la legittima difesa e poi a dire che uno che mi entra dentro casa è per rubare dentro casa mia non lo posso arrestare secondo me diciamo lo sta chiedendo a Salvini lo sta chiedendo a Salvini no io lo sto chiedendo nel senso lo dico per la posizione che io ho assunto perché tra l'altro ho assunto dall'inizio perché io su questo e anche sul tema legge Severino che è un'altra questione complessa dove non si può buttare il bambino con l'acqua sporca appunto perché stanno i sindaci i quali con la Severino vengono sospesi senza aver avuto la condanna definitiva sì però scusi Respa una cosa è prendere e dire l'automatismo dopo il primo grado di giudizio non va bene automatismo va bene con una sentenza di condanna passata in giudicato no una cosa è dire lasciamo la discrezionalità ai giudici perché guardi allora punto primo in Italia c'è un problema di corruzione per cui diciamo qua c'è diciamo un punto di vista giustizialista e un punto di vista garantista su questa materia quello giustizialista è comunque un problema di corruzione in Italia c'è per cui se io non voglio che persone innocenti non possano ricandidare prima di aver finito il loro percorso con la giustizia non voglio neanche che uno condannato in via definitiva per reati di corruzione venga rieletto dopodiché in Italia chiedo scusa fronte garantista e giuro che mi taccio c'è anche un problema di politicizzazione della magistratura allora lei capisce che prendere e dire che la pena accessoria della decadenza o della incandidabilità e leggibilità è messa discrezionalmente in mano al magistrato che decide se diciamo portarla avanti oppure no posso dire che non mi sento tranquillissimissima lo dico per quei pochissimi giudici che magari possono fare una valutazione anche di carattere politico però il tema c'è la Severino fu la base sulla quale Berlusconi fu mandato via dal Senato perché in seguito una condanna definitiva la Severino questo prevedeva lei in quel caso era contrario all'applicazione della Severino certo ma anche per la tempistica dopo di che io sono per rivederla completamente la legge Severino però l'automatismo di come è scritto il referendum produce secondo me dei risultati che rischiano di essere anche nell'intenzione di chi ha scritto il referendum più tragici perché comunque ripeto punto primo ci sono dei casi e dei reati su cui secondo me è giusto lo pensavo prima e lo penso oggi prevedere che uno non sia ricandidabile a sentenza passata in giudicato secondo se è vero come è vero che ci sono delle situazioni nelle quali la giustizia viene applicata con due pesi e due misure il tema della incandidabilità o della decadenza io non la lascerei diciamo discrezionale puoi proposta ai fratelli d'Italia prevedi la decadenza sentenza di condanna passata e giudicata per alcuni reati magari si può rivedere anche diciamo il contorno dei reati però attenzione perché rischiamo di fare cioè una cosa che potrebbe diciamo non accontentare neanche quelli che hanno scritto il referendum allora veniamo a un momento questi interessantissimi sondaggi sull'energia le dico subito che dopo le truffe eccetera siete d'accordo con le restrizioni imposte per accedere al superbox sì 68% no 14% è pure qua scusi ma anche qui l'Italia è tutta così no allora prima faccio una norma sulla cessione del credito sul superbonus eccetera la faccio coi piedi però poi ci sono pure un sacco ci sarà chi ha truffato ok e ci sarà pure un sacco di gente tenere onesta lì fu un emendamento parlamentare a combinare il guaglio no guardi lì purtroppo fu scritta proprio male la norma dopodiché però ci sta un sacco di gente piccole imprese eccetera che si sono indebitate perché perché avevano l'indicazione dallo Stato del superbonus del 100% e della possibilità diciamo di cedere il credito adesso sta ritornando ora ci sono il credito esatto ma queste cose non si possono cambiare in corsa perché tu rischi di ammazzare migliaia di aziende anche lì qualcosa non ha funzionato sulle truffe che cosa non funzionava sulle truffe per esempio nella cessione del credito che chiaramente a un certo punto nessuno aveva previsto che bisognava tracciarlo il credito per tornare a chi l'aveva generato non ci hanno pensato pensi un po' e siccome loro non ci hanno pensato adesso si rischia che migliaia di aziende che hanno contato sul bonus e sulla cessione del credito vanno fallite per cui si possono fare delle cose andrebbe fallite se non tornasse la cessione del credito certo ma il governo alla fine pare che ci stia mettendo una pezza dopo aver detto di no si possono fare delle cose minimamente dotate di senno in questa nazione 4,4 miliardi di truffe si capisce perché gli italiani ma guardi 4,4 miliardi di truffe ma guardi a me lo dice ma 4,4 miliardi di truffe vuol dire banalmente che qualcuno non ha fatto una norma che consentisse di limitare le truffe e quindi tu purtroppo oggi vai a prendere quelli che hanno truffato e li metti in galera va bene? perché questo si fa nelle nazioni normali ma non lo fai pagare a chi non ha truffato e va a finire a carte 48 perché il governo ha cambiato idea cioè qui è tutto un po' folle cioè alla fine otteniamo rischiamo di ottenere il risultato che chi ha truffato la passa liscia e chi invece si è comportato bene va fallito scusi ma chi vincerebbe le elezioni politiche ve lo diciamo dopo un altro frammento di pubblicità ecco allora i sondaggi politici chi vincerebbe per chi voteremmo domani mattina se si votasse per le elezioni politiche allora partito democratico eccolo qua è sempre in testa ma di una frazione di punto quindi partito democratico e fratelli d'Italia sono alla pari sostanzialmente 21.2 con la perdita 0,4 tra l'Italia 21% con una crescita superiore ai due punti secondo la Ghisleri lei avrebbe fatto il botto la Lega 16.9 perde 1.6 il Movimento 5 Stelle perde 7 frazioni di punto va al 13.7 Forza Italia guadagna 0,3 e va all'8.5 più Europa e azione 4.8 la Federazione Verdi 3.2 andiamo avanti Italia Viva 2.3 no Europa questo paragone 2 punti articolo 1 1.9 sinistra di Aleano 1.6 altri centrosinistra gli indecisi sono sempre questo è fisiologico insomma un terzo di indecisi beh tantarò veramente sono moltissimi ma c'è da dire una cosa gli spostamenti nel centro-destra vanno tutti verso Giorgio Meloni nel senso che la Lega perde quasi più di un punto e mezzo c'è stato un travaso travaso vanno tutti verso Fratelli d'Italia e invece il Movimento 5 Stelle perde a favore una parte del PD e una parte in tanti altri piccoli partiti Paragone 1 poi c'è un altro partito tipo Alternativa ma piccole cose Alternativa c'è sono dei vuoi usciti del Movimento 5 Stelle ci sono delle nuove creazioni ecco perché non va al centro-destra mai il voto in uscita è già uscito il voto che è uscito dai Movimento 5 Stelle è uscito subito dopo le europee e infatti il voto delle europee sia Salvini sia Enzi lo persero in tempo brevissimo mentre i 5 Stelle ci hanno messo un pochino di più ma quando è caduto il governo si è riformato il nuovo governo col PD loro hanno iniziato a perdere i consensi e si sono spostati già nell'area del centro-destra allora le coalizioni il centro-destra tra l'Italia Lega Porta Italia e gli altri il centro-destra 47.6 che è 9 punti sopra il centro-sinistra diciamo classico che è Partito Democratico Movimento 5 Stelle MDP Articolo 1 e Sì 38.4 gli altri di centro-sinistra Europa Azione più Europa Azione Italia Viva e la Federazione Verdi 10 punti ma qui la cosa divertente adesso il Parlamento come sapete perde un terzo da 945 a 600 400 alla Camera e 200 al Senato quindi ci sarà parte Fratelli Italia che parte per sua fortuna a basso a basso tutti gli altri lacrime e sangue no? più o meno è una tragedia di cui si sono pentiti i primi i primi promotori ecco così allora vediamo un momento che succede alla Camera con il sistema elettorale attuale alla Camera Fratelli Italia l'Italia prende 90 seggi 45 cioè la metà al Senato Lega 73 36 al Senato Forza Italia 36 18 al Senato la metà totali centro-destra 199 e 99 però un'anticchia per non avere la maggioranza assoluta con la quale invece si governa ovviamente sono degli esercizi di calcolo per ovvi motivi perché la soglia 3% e soprattutto attenzione con l'attuale legge elettorale i partiti più piccoli se superano l'1% aiutano a raggiungere una percentuale maggiore e gli altri quindi guadagnano dei seggi siccome sono tutti divisi abbiamo Coraggio Italia noi Italia eccetera io non ho potuto conteggiarli e quindi hanno disperso un valore che potrebbe essere importante guardiamo avanti come mai il Partito Democratico che prende 10 seggi più a parità grosso modo di voti prende 10 seggi più di Fratelli Italia perché loro sono solamente due i partiti di coalizione che superano il 3% mentre invece dentro la coalizione di centrodestra sono tre quindi è penalizzata la forza del centrodestra con tre partiti importanti vanno distribuiti i seggi e siccome sono tutti forti centrosinistra 100 seggi e 50 al Senato per il Partito Democratico 64 seggi e 32 al Senato cioè il Senato il Movimento 5 Stelle prenderebbe un terzo degli eletti del 2018 sostanzialmente centrosinistra quindi 164 e 82 poi più Europa e azione 21 e 10 al Senato Federazione Verdi Renzi non becca niente qua eh no perché la soglia il 3% se non si allea con l'attuale legge elettorale la soglia il 3% quindi se non c'è un'alleanza rimane fuori ma la sorpresa è che cosa succede si dice sempre beh allora il centrosinistra dice facciamo il proporzionale così va meglio eccetera e se il centrosinistra rimanesse compatto non andrebbe proprio così e andiamo a vedere cosa succederebbe noi abbiamo ipotizzato uno sbarramento al 4% perché il 3 attuale è troppo male il 5 poi la gente si suicida quindi il 4 è quello più verosimile in questo caso il Ferrell Italia 98 seggi alla Camera 49 al Senato la Lega 79 39 Forza Italia 39 e 20 quindi una netta maggioranza assoluta 216 e 108 vanno a perdere gli altri perché il partito democratico scende a 98 seggi e 49 64 e 32 il Movimento 5 Stelle mantiene gli stessi perché essendo una doppia divisione sono a un valore più basso 184 e 92 più Europa azione 22 e 11 poi c'è da dire che in questa ovviamente simulazione non abbiamo potuto mettere le minoranze linguistiche mentre nell'altra più o meno valgono due seggi alla Camera e due seggi al Senato che sono sempre quelli delle minoranze del Masella però lei dice io resto fedele al sistema attuale con una quota di maggioritario anche se non mi conviene assolutamente così da tempo cerco di spiegare quando si dice la Meloni perché no io so già che probabilmente il proporzionale potrebbe convenire sicuramente conviene al partito probabilmente può convenire alla coalizione il problema è che il proporzionale è il pantano il proporzionale è un sistema elettorale che serve a non far decidere agli italiani cioè tu voti una cosa e il giorno dopo ne ritrovi un'altra per un fatto di chiarezza io credo che gli italiani abbiano diritto a scegliere un partito in una coalizione con un programma cioè sapere per cosa stanno votando per cui non è una posizione di interesse è una posizione di convinzione allora stavolta Oscio non possiamo fare la cosa perché non parla Salvini non parla Salvini quindi vabbè stavolta dobbiamo saltare la nostra parte e guardiamo un momento è Berlusconi che fa il pacere tutti vogliono fare il pacere vediamo un pochino Berlusconi se ti promette che ti vota tutti i referendum tu poi l'aiuti a togliere il Green Pass? e invece vogliamo tagliare che cosa propone perché improvare con un po' di terapia di coppia ma c'è sta pure il buono un psicologo allora prima di lasciarla libera siccome la seconda parte è dedicato a un tema delicatissimo che adesso legge la figlia piccola ma insomma interesserà anche tutti i genitori di figli eccetera questa cosa che le figlie rischiano di trovarsi in delle situazioni veramente impensabili quello vi ha richiamato baby gang ma insomma è qualche cosa di terribile perché coinvolge persone sospette come vedremo poi nella seconda parte andiamo a vedere le proponiamo questo servizio di Simona Decina e Pietro Durante su una festa drogata a Primavalle quartiere popolare di Roma dove c'è stato un perverso connubio diciamo parioli Primavalle proprio con dei risultati devastanti vediamolo sono arrivata a una festa il 31 dicembre a cui c'erano alcolici cocaina marihuana rivotril avevo fumato e bevuto però nient'altro ho iniziato a bere 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 inizia così il racconto della festa di fine anno 2020 di Blanca nome di fantasia la minorenne spagnola figlia di un diplomatico che ha denunciato di essere stata stuprata ad una festa a Primavalle Roma da diversi ragazzi ma ripercorriamo la vicenda siamo nel dicembre 2020 pieno lockdown un gruppo dei ragazzi dei parioli conosce sui social una comitiva di coetanei di Primavalle organizzano insieme il veglione in una villetta di uno dei giovani a Torresina periferia nord della capitale i patti sono chiari la casa la mette il gruppo di Primavalle mentre del gruppo parioli sono ammesse solo le ragazze dopo una lunga trattativa verranno anche invitati due ragazzi del gruppo parioli iniziano i preparativi i pariolini cercano farmaci e droghe per la serata di sballo come racconta la chat tra due ragazze minorenni della zona bene della capitale portate voi da fumare io posso portare la bianca mi sa non è che posso girare con chissà quanta roba dietro se mi fermano so c***o Blanca si rega la festa con la sua amica che la ospita durante le vacanze romane accompagnate in auto dal padre di questa nella villetta l'antipasto e il dessert sono la stessa cosa pronti su un tavolo infatti ci sono fiumi di alcol droga e pasticche per Blanca è l'inizio dell'incubo secondo gli inquirenti avrebbe subito violenza sessuale da cinque ragazzi tre maggiorenni e due minorenni Blanca ricorda poco la ricostruzione si basa sulle testimonianze le chat e le intercettazioni voi ipotizzate che possano averle dato la droga dello stupro? sì perché da come lei mi ha raccontato non può essere altro che la droga dello stupro non avevo forza non avevo consapevolezza quando mi sono risvegliata ero piena di lividi ovunque uno dei maggiorenni quella sera mostra la sua maglietta sporca di sangue a causa del rapporto sessuale con la minorenne spagnola è il suo trofeo ma anche la prova che lo inchioda ad oggi a più di un anno da quell'indimenticabile capodanno le indagini non sono ancora chiuse e nessuno dei partecipanti ha voglia di parlarne una cosa sconvolgente è che la programmazione capisci cioè queste sui social si sono costruite una festa a base di droga cioè andando lì quando il genio e il compagnolo dice andiamo a fare una festa a base di droga non è che era una festa normale poi uno ha portato un po' proprio programmata cioè una cosa spaventosa io penso di essere presidente di uno dei pochissimi partiti politici che il tema della droga che sul tema della droga della droga tra i giovani della diffusione della cultura che si cerca di far passare come se la droga fosse una cosa ok quindi fa piacere che sia stato bocciato il referendum sulla sulla mi fa piacere anche perché il referendum come al solito viene venduto per una cosa ed era un'altra si diceva che la liberalizzazione della canna visto che quello che il referendum prevedeva era la possibilità di coltivare qualsiasi pianta vuol dire anche la coca e non solo in casa della gente ma anche sui territori agricoli sui terreni agricoli per cui lei capisce che era una cosa un po' diversa da quella che viene raccontata ma a me fa impazzire il principio cioè noi abbiamo una generazione alla quale Vespa col covid abbiamo tolto tutto cioè noi abbiamo ragazzi giovanissimi che sono stati privati nell'età più delicata della libertà della socialità dell'educazione che hanno avuto la loro vita filtrata dietro lo schermo di un computer tutto quello che abbiamo saputo fare è stato dare loro degli untori quando c'erano i contagi perché erano andati a ballare in discoteca e scaricargli addosso 250 miliardi di debiti che pagheranno ok? dopodiché la politica si ripresenta e dice qual è la proposta che ho da farti però ti puoi coltivare la canna ma è una società normale questa è ovvio che perché che cosa fa paura di questa cosa non solo la programmazione ma la normalità cioè questi non sono ragazzi come posso dire di situazioni marginali questi sono ragazzi di famiglie bene ragazzi normalissimi perché noi non ci rendiamo conto a della familiarità che loro oggi hanno con tutto quello che una volta era proibito con la droga col sesso a età pazzesche ok? in questo diciamo i nuovi mezzi di comunicazione e della solitudine che abbiamo scaricato su questi ragazzi e nessuno sa dare delle risposte che non sia vabbè però ti puoi fare una canna e sei felice grazie onorevole Meloni grazie a voi